Signor Schoob, cosa vuoi fare in vista della prolungazione di detenzione di due ospitiose in Andini, nel caso di Masnes? Il sindaco aveva due persone che avevano detenere il 27 settembre e due persone a ieri avevano preso il comissario per prolungare la detenzione per 60 giorni e avevano una peticione del ministro pubblico che aveva prolungato per 60 giorni. C'è un cargo concreto? C'è un cargo di T.I. ma non si vedi un trial by media e non si vedi un caso di un trial by media e ci sono stati in direzione di fare un trial che ci può indicare che ci sono sospettati di essere involvati nel caso di asesino del sr. Wills e che ci sono stati venuti in detenzione e ci sono stati venuti in detenzione di chi con chi è che ci sono accusati concretamente di questo Ora, signor Schoob, cosa si vedi a sospettare del caso di asesino del sr. Wills cosa si vedi a sospettare del asesino del sr. Wills cosa si vedi a sospettare del sr. Wills cosa si vedi a sospettare del asesino del sr. Wills ma non ci sono stati venuti in detenzione a sospettare del sr. Wills la persona che sta anche con la famiglia che si vedi a questa famiglia ma non ci sono stati venuti a questa famiglia ma non ci sono stati venuti a sr. Wills ma non ci sono stati venuti a sr. Wills 60 giorni. 60 giorni. 3 giorni di Dizembre? 3 giorni di Dizembre. Di ogni modo, il caso viene in fronte per la forma. Contro di tre persone qui. Nel momento, io ho scelto il trattamento del caso, e ho indicato che il caso si trova. La procedura sta in fronte per la forma, per il motivo che la investigazione non è ancora clara. Quindi, il giorno non c'è il caso? La nostra procedura è che il abogato non sempre può fare una peticione per il suo cliente in libertà, e spera che il caso si tornava in fronte. Se il caso di Dizembre è un abogato, lo dicono che il cliente è in libertà, lo dicono che il cliente è in libertà, lo dicono che il cliente è in libertà, e finalmente, io ho deciso di che la persona è in libertà, e ho chiesto se il caso si torna in fronte o se la persona è in fronte per il caso, e se in un momento che il caso si torna in fronte. e dopo di 60 giorni, quanto è la quantità di giorni? e dopo di 30 giorni, dopo di 30 giorni, e dopo di 30 giorni, dopo di 30 giorni, dopo di 30 giorni, ma comprensione, perchè non è arrivato a 10-18 ma se ci sono altri sospetti di caso se il termino di 60 giorni è terminato avremo più di 30 giorni